Ancora sull'argomento SMS, oggi vedremo come trasmettere un SMS premendo un pulsante. Utilizzeremo ancora la Shield SIM900 infilata sopra al nostro Arduino. Collegheremo questa volta un pulsante per inviare un SMS. Tutto sembra abbastanza semplice. Vediamo come fare. Per inviare un SMS alla pressione di un tasto, dobbiamo collegare un tasto ad Arduino. Ormai dovreste essere più che esperti, quindi questo è il nostro Arduino. Prendiamo il solito tasto, normalmente aperto, colleghiamo alla resistenza da 10K. La resistenza viene collegata da una parte GND e l'altro capo dove c'è il tasto viene portato a 5V. Il punto centrale viene collegato a un pin. In questo caso verificando cosa utilizza la Shield troviamo che è libero il pin 13, quindi lo colleghiamo al pin 13. Andremo a utilizzare lo sketch dell'altra volta. Individuando il momento in cui viene premuto il tasto, a che chiameremo la funzione per inviare l'SMS. Andiamo a prendere uno degli sketch già pronti, forniti con la libreria, e lo modifichiamo per non dover scrivere tutto da capo. Gli sketch sono scritti in modo un po' confuso. Lo sistemiamo. Abbiamo all'inizio gli include delle librerie, la 900 che è quella della Shield, la software Siliar perché Arduino comunica con il modulo GSM via porta seriale sui pin 7 e 8, e il modulo sms.h per creare e gestire gli sms. Serve un oggetto sms, viene inizializzato qua. Dopodiché ci serve la variabile started tipo booleano per verificare quando la scheda è inizializzata. Nella parte setup abbiamo il setup, il begin della porta seriale standard, quella che collega Arduino al nostro PC, quindi al serial monitor. Dopodiché viene inizializzato il modulo con GSM begin, la velocità è di 4008 ed è quella indicata dal produttore. Se tutto va bene viene scritto status uguale ready e la variabile started viene messa a true, altrimenti viene dato un messaggio, in questo caso scrivono status uguale idle e ovviamente il sistema non partirà. Cancello questo blocco di codice, qua non ci serve per ora, però potrebbe essere utile nel caso riempissimo la sim con gli sms. Qua scommentandolo vedete che semplicemente è questo quello che serve. Va a prendere gli ultimi 20 sms e li cancella, uno per uno, bisogna indicare la posizione. A parte che invia l'sms la troviamo già qua. If started, questo va a trasmettere l'sms, solo che non la mettiamo qui nel setup ma la spostiamo nel loop perché vogliamo legarla alla pressione del tasto. Cancelliamo tutto, ripuliamo un attimo. Nel setup andiamo ad aggiungere anche il pin mode del pin 13 come ingresso perché qua collegheremo il nostro pulsante. Nel loop postiamo la parte che provvede all'invio dell'sms, la mettiamo qua. L'sms viene inviato solo se la scheda è inizializzata. Qua il numero, possiamo mettere un numero qualsiasi, 3475432, quello che vogliamo, e il messaggio di testo. Questo avverrà solo premendo il tasto, quindi if digital read del pin 13, allora invio l'sms. Qui abbiamo un if, quindi sms send sms, ritorna true se l'invio va a buon fine. Aggiungiamo qualche serial.println per capire cosa accade, quindi appena premiamo il tasto, per capire che abbiamo premuto il tasto mettiamo invio sms con tre puntini e quando l'sms è stato inviato mettiamo sms inviato. Compiliamo, va tutto bene, carichiamo sulla nostra scheda e apriamo il serial monitor. Aspettiamo che la scheda sia pronta, dopodiché premiamo il tasto per inviare un sms al nostro cellulare. Anche per oggi abbiamo finito, grazie per l'attenzione, ci vediamo domani, ciao!